Ringrazio Chiara di avermi dato la parola e ringrazio Valentina Ralloni e tutta la regione di Chiamanica per averci invitato a presentare il piccolo compito che abbiamo voluto dare a questo progetto che ci impegna molto ma con molto piacere. Allora la documentazione che noi andiamo a fare all'interno del mode è quella relativa da una parte alla qualità del progetto educativo. Qui trovate appunto in una sezione specifica dell'area di contribuzione del mode, i vari progetti appunto premiati dalle varie elezioni e per ogni progetto noi andiamo a riempire, diciamo, una scheda che va a censire quelli che sono degli elementi di qualità dell'esperienza educativa che lo rendono effettivamente relevante, questo appunto utilizzando i criteri e utilizzando una scheda in particolare. Poi vengono anche inserite delle immagini significative della valenza educativa però appunto un aspetto che a noi sta molto a cuore è anche il fatto che vengono documentati limiti nel perché il sistema dà questa possibilità e a questo scopo vengono sempre inseriti all'inizio dell'anno quelli che sono i progetti dell'edizione che sta per iniziare proprio per dare la possibilità di documentare l'esperienza inutile e adesso attaglieranno i progetti della prossima prossima inutile e che anche la possibilità di documentazione per noi per noi tenda meno importante. Cos'altro dire? Niente, noi, questa documentazione per noi è sempre con questa metafora è rendere visibile quello che fate, se quel contadino l'avesse tenuto per sé avrebbe avuto un grande patrimonio ma non condiviso e la sua opera sarebbe stata di valore parziale, è metà, l'avere permesso via via a delle persone con molta semplicità e anche con molto silenzio e questo è gli strumenti ormai lo permettono di andare a visitare queste foreste ormai culturali con molto rispetto di valorizzazione dei patrimoni e quello è quello che gli chiediamo poi di andare a esplorare anche all'interno del moda, all'interno del sito, dell'UBC proprio per andare a scoprire tutti questi patrimoni che via via in questi anni sono stati seminati che iniziano a creare un patrimonio importante. Chiudiamo con questo brevissimo video che vi fa vedere tutto quello che abbiamo raccolto è più solo nella specifica di mode e vi ringraziamo. Grazie.